Buongiorno e benvenuti, mi chiamo Caterina e oggi ti presento il mio group up del mese di novembre, l'ultimo perigo. Ho letto diversi libri, letti e recensiti sul mio blog. Il primo libro che ti presento è Avere tutto di Marco Messiroli e Inao, il nostro, il lepro. Eccolo. Avere tutto Marco Messiroli e Inao. Marco Messiroli e l'ossessione di Inao. Il prossimo libro che ti presento è Ragazzo in Fiammo, l'autore Poloster, case libriche e Inao. Vado avanti con la certosa di Parma, Stendhal e Inao. Dite mia di Alisabetella, non mi vuoi. Proust senza tempo, Alessandro Piperno, autore, Mondadori. Proust senza tempo e Alessandro Piperno, autore e Inao, case libriche e Mondadori, case libriche. Cinque martedì d'inverno di Lily King, case libriche. Stiamo terminando perché sto arrivando agli ultimi libri da presentarti con Libera, Nossa, Malo, Luigi Meneghello, Rezzoni e Libri. Questo libro arriva dopo cent'anni dalla nascita di Luigi Meneghello. L'ultimo libro è il romanzo della vita passata di Vincenzo Arrabito e Inao. Questa è la lista dei libri che io ho letto e recensito sul mio blog. Se anche tu hai letto qualcuno di questi libri mi farebbe piacere saperlo. O se hai intenzione di leggerlo se è nella tua lista o viceversa se vuoi consigliare qualche titolo da leggere. Per questo video è tutto. Un saluto carissimo. Ciao, al prossimo.